A Nichelino è una delle opere pubbliche più importanti degli ultimi decenni e alla sua progettazione e realizzazione la città metropolitana di Torino ha dato un contributo fondamentale. Parliamo della nuova scuola primaria intitolata Gianni Rodari, la cui prima pietra è stata posata nel pomeriggio di giovedì 7 marzo nell'area di via 25 Aprile in cui sorgerà il nuovo plesso, di cui farà parte anche una ludoteca. Scuola e ludoteca saranno uno dei punti di forza di un nuovo parco urbano inclusivo. Sindaco, una grande operazione di ricucitura del tessuto urbano ma anche sociale, quanto ne ha bisogno Nichelino di operazioni come questa? Beh, ne avevamo bisogno in questi anni, abbiamo investito molte risorse per riqualificare molti edifici scolastici, l'impegno da parte dell'amministrazione è stato davvero importante, però l'opportunità del PNRRR, la disponibilità di città metropolitana sicuramente è stata un'ulteriore opportunità per realizzare davvero non solo una semplice scuola ma un parco urbano inclusivo, quindi una casa della famiglia, recuperare e riqualificare anche un ambiente verde, un giardino, quindi questo sicuramente soprattutto in una zona centrale per noi è un'operazione identitaria davvero di grande e di straordinaria importanza. Un ruolo importante di città metropolitana in questa operazione che riqualifica un pezzo di città? La città metropolitana in questa operazione riesce a finanziare per metà l'intero intervento e in più segue la direzione dei lavori. Quando con il sindaco Lorusso e colleghi e colleghe dell'amministrazione di città metropolitana abbiamo deciso, abbiamo compiuto la scelta politica di far arrivare in periferia i finanziamenti del PNRR e abbiamo potuto realizzare opere come questa. Questa per la città di Michelino è una delle opere più grandi, più importanti, una nuova scuola, la ludoteca, il parco urbano inclusivo e tutto questo non sarebbe potuto succedere senza la città metropolitana di Torino. Sessora Zolina, questo pezzo di città che cosa può diventare nei prossimi anni? Cosa diventerà anche grazie a città metropolitana e al contributo che ci ha concesso? Diventerà un polmone verde e un parco inclusivo, educativo e didattico perché metterà insieme una nuova scuola di nuova concezione e nuova generazione insieme a una ludoteca, un centro per le famiglie in un'ottica appunto di inclusione. Quindi questo parco, questa scuola e questa ludoteca saranno vissute dalla cittadinanza. Allora, un'operazione, diciamo, complessa, quella di riqualificazione di un'area non banale perché qui c'è una scuola, c'era una piscina e quindi non facile riprogettare quest'area. Sì, è una sfida perché la sfida è demolire una piscina, costruire una scuola nuova, trasferire i bambini in questa scuola nuova, demolire la scuola vecchia e infine realizzare una ludoteca. Quindi un progetto complesso, molto grosso, sono 9 milioni di euro in totale che derivano da fondi PNR. Quindi la necessità anche di stare nei tempi, se parliamo di PNRR? Assolutamente sì, l'impresa sa che ci sono dei tempi contingentati, stretti e noi come città metropolitana cercheremo di vigilare e di fare in modo che questi tempi vengano rispettati.